Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non ho capito cosa mi è successo. Ma ero a full vita. Ho capito, ma ero a full vita. Ragazzi, non entrano! I colpi di pistola! Parca di quella puntero! Basta, non le faccio più le sfide, basta. Non le faccio più le sfide, basta, andiamo a vincere, basta. Basta, basta, mi sono rotti i coglioni. Merda. E poi oggi, questa mattina, mia moglie ha deciso di asciugarsi i capelli. Che vuol dire? Eh, di accendere il phone. E' scattato la corrente? Sono partite tante di quelle bestiemi urlando mentre scendeva a tirare sul contatore. Non è possibile che un phone faccia scattare la corrente, mi scusi. Se lo metti in contemporanea con la stufa di mia suocera, cazzo! Ah, perché vuoi vedere il correntatore gozato? Tutto assieme. Andiamo! La messina mi sembra un po' eccessivo, lupo. Porco Giuda! Non posso andare in giro a caso adesso? Metterò poi nei giorni successivi, probabilmente, delle ispezioni di video, delle cose, Samso. Andiamo! Non ci sta, ragazzi. Non ci sta. Dovevo farlo, però. Dovevo farlo. Sono veramente un coglione di merda. Io non capisco perché di tanto ho questo diavolo da dentro. Dai, per un deficiente! Per un deficiente di merda devo perdere da una busta di merda come questo! Porco Diaz, oh! Porco Diaz! Per un coglione del cazzo che non c'ha un'idea a fare il pagliaccio di merda con i cazzo di lanciaspade, gravità e tua madre puttana pecora! Cristo Dio! Che schieno! Milioni di euro per un rapporto non etero! Basta che glielo sbatto io nel culo! Io non prendo proprio un cazzo! Ho questo? Sono su di noi, ah! Sono su di noi! Oh! Gioco con noi! Grazie bello, grazie, grazie, grazie per la crowd! Eh no, non sarebbe giusto per la beta! Per esempio questo qua che non ha un nome italiano, ma è italiana, capito? Quindi sai quanti... Grazie della corona, bello, grazie mille! Ha un nome particolari! Eh beh, ci sta! Cercheremo di vincerla per te! E per le 500 patatine soprattutto! Quattro minuti e ventotto di attesa! Merzia! Salutiamo Gioele che si è appena messo con una! Grande Gio! Eh, non ho il watch time io Lorenzo, caro! Non ho il comando del watch time, non l'ho mai avuto! Allora... 22 su 25 salvati di superstiti per... Per la sporca venticinquina, god! Buongiorno zi bonfire, oggi a casa della scuola! Eh, allora si goda un po' di live! Ehm... Non penso che ne abbiamo più, giusto? Di super, li abbiamo fatti tutti? Mi sa di sì, forse le inalterezza! Devi succhiare il mio cazzo con tutti i coglioni attaccati! Niente, poi muoio perché... Forse no, forse non muoio? Eh, tua madre che è la buttana d'imberda! Che è la buttana! Dio santo, Dio santo! Che fottuto nervoso! Che fottuto nervoso! Nooo! Mi dispiace, forse morirà... Andiamo, let's gooo! Questo, eh? Nooo, sono stato io! Qua è finita! È stato pizze? È finita? Sì, qua è finita, si ritorna di qua? No! Ma che cazzo! Ragazzi però voi siete fuori di... Dai, raga, bravi! Ma come non siamo fuori di... Bravi, raga, bravi! No, bravi, io non... Ok, nice! Ci sta, ci sta! Eh sì! Non ce n'è accorto nessuno! Per mesi! Così noi abbiamo potuto tranquillamente trovare... Una macchina da guerra che lo sostituisse! E l'abbiamo trovato! Abbiamo fatto un bel po' di tentativi, ma poi ce l'abbiamo fatta! Voglio chiederle un consiglio! Una volta che ho da trovare la mia amica a casa, c'è sua mamma sempre in gonne reggiseno! E io non so che fare! Che mi sembra che fa apposta? Che faccio? Beh, non metterti insieme a questa ragazza, altrimenti ti diventa un po' un troion! Se la madre rimane in mutande reggiseno con l'arrivo di qualche amico, l'è un troion anche a lei, porcudisi! Al butanun! Al genera butanun! Andiamo? Sono sempre pasticci, cipi! Non so come ve lo sarebbe l'Antoni tu! Arriva una win! Guardalo qua, Kiri! Figa ragazzi, Kiri è già pronto per andare a ficcare stasera! Guardalo lì, Kiri! Nice! Il leccatore lo chiamano Kiri! Deliccio! Nice! È già pronto eh, Kiri, raga! E' già pronto eh, Kiri, raga! Il pod va aperto immagino, sì! Porca troia! Devo capire come funziona! Questo lo metti così! Qualcuno sa come funziona! Volevo capire come funziona! Eh sì, questo lo alzi! Allora è giusto perché questo va messo qui! Ah ok, no, fino sotto! Easy! Ma ho i drop attivi? Ma mi sa che li abbiamo finiti i drop ragazzi eh! Però qua intanto Franky! Non mi piacciono oggi gli stivali che gli hanno messo a Franky! Andiamo a Mini Miner! Sono i drop attivi! Ed infatti ecco! Shari Orcadia! E poi va in disco a sputtanarsene tutti al privé! Attenzione! Minchia default! Vai vederci Alpaca! Sì, una bella vita! Minchia, faccio le migliaia di euro con Fortnite mentre me li sputtano! IN TRAI E COCA! POCA COLA! POCA COLA! Ma è possibile che sia così degli imbecilli? Ma che cazzo mi prendi per il culo figlio di puttana! Ma che cazzo mi prendi per il culo figlio di puttana! Bastardo! È uscito raga! Non me lo raccoglio! Non me lo raccoglio! Non me lo raccoglio! No raga! Morire perché non me lo raccoglie raga! Morire perché non me lo raccoglie! Ah questo sui quei palloncini!